Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al mio canale, sono Shana Kato e oggi andiamo a condannare la storia del mio fumetto della terza puntata di Comic Yuriko spero che vi piace il mio fumetto però come al solito vi dico sempre di lasciare i commenti sotto fammi capire se vi piace, ma ok, se Kita già consente comunque, bene, noi nell'ultima volta che abbiamo visto il mio fumetto nella seconda puntata è successo che comunque sia Akiro ha urlato nascosto perché gli doshi stavo dicendo una cosa di cose brutte che il fratello gli aveva fatto in passato ma lui lo ha dettito, diciamo, dando io uno schiaffo e poi niente, è scappato, poi così non sta a dire nulla e in più, itoshi ha messo che gli piace Yuriko e l'ha baciata bene, adesso così continuo e vediamo cosa succederà ma adesso bando e ciancee si va a iniziare e vai, ok il titolo si chiama, della terza puntata, la vera Yuriko bene, andiamo a leggere subito come lei povera è stata un po' così, triste ah ecco, poi ha dedicato anche con Tomoko, è vero, con la sua migliore amica perché lei non gli piace a Kira perché ha capito che a Kira era nato nascosto e lei non ci voleva credere perché è un gatto dedicato quindi non c'è più la sua migliore amica e in più il fratello l'ha baciata e quello che gli piace la sta abitando fantastico, povera Yuriko, andiamo avanti ecco qui che viene la Tomoko, la più odiosa della classe guarda chi c'è, la perdente credo che mi divertirò a prenderla in giro soprattutto ora che è sola Yuriko, la perdente ciao, come va in giro tutta la sola? dove è Tomoko? che c'è, anche lei non ti sopporta più? ad avverti con sé? sei bollosa sei bollosa antipatica, va bene poverino, Yuriko si è messo a piangere oddio, ma cosa ti è successo? hai un aspetto orribile, perché piangi? che c'è, tutto ad un tratto ti preoccupi per me? della perdente? eh? cosa? ma sei impazzita? io, io io lo dicevo così per dire non sei costretta mica a dirmi tutto peggio per te che ti tieni tutto dentro ok, io la Tomoko è un pochino curiosa secondo me, no Tomoko si è Yuriko vero, che è un pochino curiosa la mia 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 Tomoko l'ho persa l'ho fatta arrabbiare per il mio brutto comportamento e mi manca tanto cioè, ti rendi conto? lei l'offendeva ma lui non è così e lei poi è d'accordo anche che non vuole più essere mia amica come si permette? io sono così dolce poi non lo so so soltanto che mi piacciono i gelati e sta fanaticando oh, sei gelato mi fa morire sta parte Yuriko, oddio infatti lei ovviamente dice ma che cazzo sto dicendo? si è drogata ti giuro, è la prima volta che sto qui a sentire le tue storie strampalate beh, non parla ok, ora sarà meglio che vada in classe prima che faccia tardi va bene poverina però poverina chissà che cosa sarà successo non posso vederla così what? è troppo facile prendere in giro se è già così abbattuta devo fare qualcosa ah, ecco bene mi sembrava strano ok poco prima della discussione con Yoko oh, città questa qui è nuova cioè, nuova beh, una della classe di itoshi è una compagnia di classe ci devo riuscire appena viene itoshi devo salutarlo e parlarci se no non mi noterà mai sì, lei gli piace i toshi che carina però pista fatemi passare oh, è già qui bene devo salutarlo coraggio non ne fai altre occasioni poverina lei è timida non sa come avvicinasse i toshi ehi toshi aspetta sì che cosa c'è? ehm ecco io sono Aika Yamamoto sono della tua stessa classe volevo ecco presentarmi oh, davvero? scusami proprio non mi ricordo di te ma poverina non si ricordava che lei è una sua compagna di classe vabbè non so nemmeno che esisto non credevo che fossi così invisibile per lui ma poverina comunque è piacere sei stata gentile a presentarti eh, sì è piacere mio volevo dirti che ecco ok silenzio imbarazzante ok accidenti che invernata non dovo nemmeno un argomento su cui parlare gli sembrerò stupida eh, luizio che cazzo senti parliamo poi ora vado di fretta vorrei prendermi qualcosa da mangiare prima di andare in classe ok sì, certo scusami tu itoshi avanti stupida chiedi lì se vuoi unirti a lui a mangiare qualcosa senti itoshi eh, intanto adesso sta arrivando Yuriko oh, ciao bella Yuriko che bello rivederti eh, lui è contentissimo perché gli piace quella oddio gli piace Yuriko quindi che ti è successo Yuriko ehi, aspetta non ignorarmi così e tu l'hai baciata secondo la sua volontà oh, sì, vabbè oddio che sguardo spento che ti è successo hai una faccia così spenta è triste lasciami in pace è proprio colpa tua che io sto così adesso ora se vuoi scusarmi vado in classe poverice è rimasto male scusa itoshi c'è qualcosa che posso fare per te no, Eika è una cosa che devo risolvere da solo ma grazie lo stesso sei gentilissima ora vado ciao ci vediamo presto ok, va bene chissà che cosa sarà successo tra itoshi e Yuriko spero che tutto si risolva alla fine eh sì però lei non sa che itoshi mi piace Yuriko vabbè accidenti adesso con quale faccia entro di dentro in classe non ho voglia né di vedere Akiro né di vedere Tamoko ecco Tamoko oh ma quella è proprio Tamoko e non si parlano e Tamoko l'ha ignorata mi ha proprio ignorato Tamoko non me lo aspettavo proprio eh purtroppo si avete litigato no non ce la faccio basta me ne vado e se ne va via di classe se ne va via dalla classe no ma questa è la borsa di Yuriko di cosa ci fa qui a terra forse è meglio basta non so più che cosa devo fare sono una fallita ha ragione Yoko la vuoi smettere di darmi ragioni eh Yoko che ci fai tu qui che fine ha fatto la Yuriko che conosco quella che combatteva ogni cosa che gli capitava basta devi reagire ora calmati e cerca di risolvere il problema e raccontami tutto sono l'unica che adesso può aiutarti combatti Yuriko combatti cioè lei la sta motivando a reagire Yoko combattere è vero io sono mi farò pentire per le bugie che mi ha detto per farmi allontanare da me a Kiro e avermi toccato il seno sì quella volta la sì mi ricordo e poi quando sono uscita con A Kiro è andata sempre bene devo lottare per vincere ha ragione Yoko grazie tanto Yoko mi hai ridato la mia fiducia e me stessa devo combattere e ancora gli occhi spenti cos'è successo con Tomoko raccontami tutto buongiorno ragazzi ora facciamo l'appello e lì c'è anche A Kiro bene 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 e quanto pare Yoriko è assente pensano sua madre non mi ha telefonato per avvertirmi lei è preoccupata eppure Yoko è assente questo è stranissimo lei non perde nemmeno una lezione davvero ok e lei si aspetta qualcosa ma è possibile tutti e due sono assenti ho capito ma io credo che se ti ha detto quelle cose è perché ti vuole bene e se ci parlerai lei ti ascolterà non è che non ti ringrazio per tutto ciò ma perché mi aiuti tanto dato che non siamo amiche beh perché così non c'è gusto panetti in giro e ora che ti dai una bella svegliata bene ora me ne vado ho già perso fin troppo tempo con te ciao e mi raccomando fai quello che ti ho detto ecco ti finalmente che cosa pensavi di fare è eriutato Moko sei una sciocca e mi sono preoccupata tanto per te non eri venuta in classe questa mattina perché beh ecco io poverina si può piangere e lei povera io so che quelle cose su Akiro me lo dici perché ti preoccupi per me e perché mi vuoi bene ma prima indaghiamo un po' lo so anche a me sembra un po' strano ma la tua amicizia non la voglio perdere perché ti voglio bene ma certo che non siamo amiche lo saremo sempre lo so un po' esagerato scusami anche tu pace fatta che carine ora smetti di piangere non posso vederti così è tornata normale con gli occhi belli limpidi e vai ora sono in uomo felice come sono contenta ho di nuovo la mia migliore amica bene ora andiamo in classe e poi dopo la scuola saluti Akiro e vediamo come va ok va bene grazie per aver messo la mia borsa in classe ne parliamo dopo ora c'è Akiro vai a parlargli corri sì ora vado ok vediamo cosa succede ciao Akiro ti va se facciamo la stade insieme guarda se me è male ok magari facciamo un'altra volta ok oh hai rifutato scusami ma dai scusa Akiro mi potresti accompagnare al bar alla fine della via che come sai si sta facendo a notte e per una ragazza da sola in giro è pericoloso almeno se ci sei tu mi sentirei più tranquilla ma guarda mi ci prova con Akiro lei sì certo scusa ma perché lei l'accompagni la sto solo accompagnando al bar alla fine della via e poi tu non sei sola hai tuo moco no non sei mica la mia ragazza che devi essere gelosa di me ora ti saluto ciao ma che cavolo e lui va via con lei poverina ma sta malissimo Yoriko lascialo perdere diretto a me non capisco è totalmente cambiato di cosa gli hai preso beh per un momento è meglio che lo lasci perdere non corri lì dietro deve essere lui a venire da te ora sei tranquilla come si permette nonostante che l'ho difeso ora io la faccio pagare cara wow Yoriko incazzata non l'aspettavo brava ma non l'aspettavo da te che vesti reagito pensavo che ti mettevi di nuovo a piangere beh non pensare che questo non mi faccia male ma mi ha aiutato una persona a farmi reagire e ricordarmi che io sono molto tenace e trovo sempre la forza di reagire se lo sono con gli altri allora anche con Akiro ah si e chi è questa persona a proposito quella seppe di Yoko mi ha portato via Akiro da me dove mi ha aiutato a reagire ma come si è permessa Yoko hai detto Yoko è stata lei ad aiutarti tesoro di lei non puoi fidarti così ciecamente ha detto solo per ricottenere magari qualcosa in cambio in questo caso Akiro già è vero i toshii avevano ragione su Akiro che è strano beh devo almeno dirgli che ha ragione ora vado da lui beh si dove sti beh si ora vado ok andiamo dai i toshii oh c'è lei che lo sta spiando Aika oh povero i toshii ancora non si è ripreso se si è ripreso così tanto allora potresti che lui è innamorato di Yoriko accidenti eh si è innamorato di Yoriko è vero uffa non è nemmeno qui chissà dove si sarà cacciato fammi pensare dov'è che potrebbe essere i toshii se io fossi toshii dove andrei se io fossi toshii adesso lei sta ripensando quello i toshii aveva detto in passato scusami ho esagerato non volevo prendermela con te mi spiace ma se vuoi ti va di uscire con me domani ti poto in un posto carino per farmi perdonare e poi si ricorda la scelta in cui stavamo guardando insieme in quel posto lì certo potrebbe essere lì intanto è troppo tanto il sole vabbè sì eccolo lì ora lo saluto ciao mitoshi sono davvero contenta di avverti trovato che cosa voglio Yoriko anche lui c'è gli occhi spenti ma che cosa ti è successo che faccia che hai tu prima mi hai detto che è colpa mia che stai male quindi lasciami in pace allora vai con il tuo Akiro oh no è vero che l'ho offeso tantissimo che sciocca che sono stata e adesso cosa faccio ecco finito così il terzo episodio spero che allora che il video vi sia piaciuto ragazzi perché ne avremo delle belle nelle poste puntate quindi se il video vi è piaciuto mettete mi piace e come non è stato commento di sapere cosa ne pensate condividete mi raccomando se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi attivate la campanella per non perdermi nulla noi ci vediamo allora a un prossimo video ciao ragazzi ciao ciao